Lambera era testimone e quando è entrata è uscita come testimone, è stata molto esauriente, molto precisa nella descrizione delle varie circostanze, il pubblico ministero, la dottoressa Lilliu è partita dall'inizio della relazione tra Lambera e il suo fidanzato dell'epoca Igli e ha descritto con dovizia di particolari tutti gli eventi della domenica e del lunedì. Gli avvocati di parte hanno fatto le loro domande, gli stessi indagati che erano in un'altra stanza della caserma dei carabinieri di Urbino hanno fatto le loro contestazioni a cui il testo è puntualmente risposto. Lambera però era a conoscenza del delitto? Lambera era a conoscenza dell'intenzione di Igli di contattare l'Ismaele per ucciderlo o per fargli del male. Lambera era convinta, perché adesso purtroppo gli fatti l'hanno smentita, che fossero solo delle affermazioni velleitarie da parte del suo fidanzato, che in precedenza non ha mai stato autore di atti violenti. Tant'è che lei si è prestata volontariamente a dare un appuntamento all'Ismaele in un luogo pubblico, cosa che fa cadere l'idea della trappola di cui lei fosse a conoscenza. Se fosse stata una trappola l'appuntamento sarebbe stato in un posto appartato. Lambera però non ha avvisato i carabinieri, questo non influisce? No, non influisce perché, ripeto, lei ha cercato nell'invito delle possibilità, anche del suo carattere, prima di calmare il senso del civile di Igli e poi di capire effettivamente come fossero andate le cose. Una volta che l'abbiamo sentita, subito ha fatto dichiarazione utile a diminuire la scoperta dei responsabili. È stato riportato da alcuni giornali il dubbio se l'Ismaele fosse stato costretto a salire sull'auto magari da più di una persona. Che cosa è successo? Abbiamo ricostruito che l'Ismaele ha ricevuto l'appuntamento all'1.30 dalla Ambera di presentarsi alle due alla stazione delle Corriere. Che cosa ha fatto? Una volta che l'Ismaele ha visto non arrivare la Ambera, ma arrivare il suo fidanzato, nel timore che nel frattempo lei arrivasse e lui potesse vedere effettivamente questo fatto di incontrarli assieme nello stesso luogo, ha preferito salire subito in macchina, allontanarsi il più lontano possibile, proprio per evitare questo incontro inopportuno. Questa è una cosa che abbiamo ricostruito oggi proprio.